A Piateda, il 7-8 maggio, campionato italiano di canoa. Azzurri a dare spettacolo fra le rapide di boffetto e primo valtellina Adda Festival. Non solo gare, ma proposte di sport per tutti. Mercatini, musica, danza e laboratori creativi. Per bambini e ragazzi, possibilità di provare la canoa. Vi aspettiamo! Il calendario degli appuntamenti sul fiume su www.adadventure.it e www.adav.it. L'evento sarà trasmesso in diretta su Telesondrio News, canali 172 e 692 del Digitale Terrestre e in streaming su www.radiotsn.tv